Tornano i talkers di Io Riparto, associazione di promozione sociale che ha l'obiettivo di promuovere la cultura e le competenze digitali in tutti i settori della vita pubblica e privata. Non a caso il nome scelto quest'anno per l'evento è Orizzonti 2022. Tutto pronto dunque per la terza edizione di Io Riparto Lab. Quattro nuovi grandi eventi presentati oggi in conferenza stampa nella sede della Camera di Commercio a Pescara. Alfani, il nome scelto per l'evento Orizzonti 2022 dice sostanzialmente tutto? Sì, dice tutto perché noi siamo partiti il primo anno capendo che eravamo in piena pandemia. L'Orizzonte è un tema scelto perché l'Orizzonte si sposta man mano che noi andiamo avanti. C'è la necessità di colmare il gap digitale che frena un po' le istituzioni ma anche i cittadini in generale. Sì, assolutamente ed è il tema della prima trasmissione dove parleremo di pubblica amministrazione smart perché ci siamo accorti che la pubblica amministrazione può essere smart e può facilitare la vita del cittadino. Oggi abbiamo la possibilità di superare il digital divide. Noi lo raccontiamo, raccontiamo le storie virtuose e le storie meno virtuose con la speranza di vedere l'orizzonte. Moltissime aziende del territorio che cercano personale specializzato sul digitale e non li trovano. E poi ci ritroviamo una quantità di giovani disoccupati. Qualcosa non funziona. Bisogna che si prende atto in maniera generalizzata di tutte le istituzioni competenti che possono dare il loro contributo affinché si colma questo gap di Quindi da un lato mancano le professioni, le specializzazioni e dall'altro lato, ahimè, una quantità di disoccupati a far paura. Speriamo di avvicinare queste distanze. Di vita, colmare questo gap direi che è fondamentale. Si può in che modo? C'è ancora qualcosa che frena i cittadini in tutto questo? Quello che frena sono le competenze. Tutti dobbiamo lavorare sicuramente sul miglioramento delle competenze a tutti i livelli. Parlo di istituzioni pubbliche, parlo di imprese naturalmente, parlo di cittadini. Eventi come io riparto penso che siano molto importanti proprio perché diventano un laboratorio di idee, un confronto che serve proprio per aumentare quella cultura digitale di cui ha tanto bisogno questa regione e l'intero paese.